Caterina Cagliaffa, la passionaria dei soci cop che da tempo assieme ad altre persone segue le sorti delle pratiche dei rimborsi, è quantomeno frastornata dalla notizia anticipata ieri dal presidente della regione Massimiliano Fedriga a Sveglia Trieste in merito ad una cifra fra i 3 e i 4 milioni di euro stanziata a loro favore dalla regione. Sta mantenendo una promessa fatta ai soci cop, però non so, io ho paura che non riesca ad andare fino in fondo, che qualcuno possa mettere un po' i bastoni tra le ruote come in tante cose. Il ragionamento della Cagliaffa, a dire il vero, fa il pieno con quanto dichiarato ieri dallo stesso Fedriga in merito alla responsabilità delle passate amministrazioni regionali. Se la regione da questi soldi ammette un po' di non aver controllato abbastanza bene ed è giusto, ed è giusto che ci dia dei soldi. Non so quanto verrà erogato, spero tanto perché noi vorremmo il cento per cento. Resta e non è cosa da poco il futuro. Intanto quello che sta succedendo. Non sappiamo l'avvocato Consoli se sta vendendo o non sta vendendo perché diciamo che ci sono, il grande problema è il magazzino di via Caboto e i lacci di via Cumano. Non sappiamo in più niente. Allora la gente ci domanda come si muove l'avvocato Consoli. Se va avanti o se ha già finito lui. Noi diciamo che va avanti. Lui ci aveva promesso che andava avanti quando non vendeva tutto. Quindi l'eventualità di trovare altri modi per coprire il cento per cento dei rimborsi. visto che la Despar, cui altri negozi hanno comprato il cinquanta per cento, che ci diano un aiuto anche loro per riuscire a prendere il cento per cento.